Quando hai avuto la sensazione di diventare veramente, che sarebbe potuto diventare veramente un'attrice? Ma io non so nemmeno se la sono un'attrice, sa, perché vuol dire essere un'attrice. Io una sera sono in un modo e una sera in un'altra, un'attrice dovrebbe essere tutte le sere uguali, ma io non so giudicarmi, confesso francamente, se mi chiedessero di dare un'opinione su me stessa non la so dare, la lascio dare agli altri è meglio. Che cosa la indispone maggiormente nella vita, nei rapporti umani? Questo l'ho detto duemila volte, l'ipocrisia. E in se stessa? In me stessa. Boh. C'è dei giorni che non mi posso vedere, dei giorni che mi sono tanto simpatica, dunque non lo so. Sì.